Buon, tu in teoria già sai, però forse tu, cioè l'altro tu, non sai che qua siamo in fase di allestimento del camper, no? E quindi io continuo a prendermi tutte le cose, cioè non sono vizietti, è un po' il mio progetto di arrivare a avere il camper pronto, completo, non aver più desideri, di roba da comprarmi, soldi a mettere via, cioè basta io voglio avere tutto quello che mi serve, bene o male siamo già arrivati alla fine, ogni tanto prendo qualche cazzata, però insomma qualche cazzata che può sembrare di no, ma è molto utile per chi ci vive e ci lavora dentro, tipo questa, può semblarti una stracazzata, una merda, questo qui è l'alimentatore per il surface che prende al 12V, cioè se io devo usare solo il surface, o solo caricare il surface lo attacco al 12V, quindi non vado ad attaccare l'inverter da 1000W, hai capito? E dopo, bello, quello che tanto menzionavo esiste, esiste, l'ho comprato, è l'adattatore d'acqua universale, con la fascetta, e tu lo stringi e lo cosi, quindi va bene per tutti i lavandini, hai capito? In più a tutti gli altri 50.000 adattatori, e dopo, questi vabbè, ne ho presi così tanti perché costavano, ho pagato tipo un euro sta roba qua, sono le fascette col velcro, quelle a strappo, hai capito? che ti perdono uno sforzo che non ho neanche idea, ecco perché costavano un euro, cioè guarda, è per tutti i cavi USB, hai capito? Tutta la cavetteria, guarda, questo ce l'aveva già in dotazione, hai visto? Quante di gente sta roba, beh, magari se ti sporca così, no? Mi sono preso, ho portato via da casa queste, aspetta, qua non le vedi bene, aspetta l'altra, queste ciabatte zingane con il Volkswagen, no? Il furgoncino e la Volkswagen, queste le avevo prese a Santa Cruz, quindi bene o male, è anche un ricordo, no? Mentre la roba che prendi su Amazon, vedi, non ha valore a livello sentimentale, no? Mentre ogni cosina che ti prendi in giro per il mondo... Oh, guarda, siete tutti al mare, siete tutti al mare, già inizia il freschetto, Giulio, ma se il microfono, perché non lo usi? Eh, oh! Va, che colori pre-temporale! Scusa, Emi, si urla anche al microfono di là. Cazzo figata, c'era un raduno di strafatoni, tutti quei last, hai visto, Emi? Anche noi un giorno, molto probabilmente. Aspetta, c'è anche i fari, che qua c'è sta moda di invadere la corsia degli altri. Cazzo, non la invado io, che ho un camper, del scarrozzo, dell'età della, no? Della pietra, ma... Della mattona. Bello, Emi? Un po' racing così col camper. Eh, a te piace? Lo so, vedo che tu vedi che guardi là, vai, che brini. Cazzo, ti sei perso il mio passaggio mega a filo. Eh, adesso è larga. È nel pezzetto quello stretto, stretto. Eh, ciao, se sta coprò si accendesse prima... Sì, pronto? Pronto? Sì. Salve, buongiorno, sono l'Idi allo contatto da parte di Forex. Lei Forex la conosce? Ma hai sentito prima? Il foraggio, sì. Forex, Forex, signore. Ah, non al foraggio. No, no. Allora, le spiego. Forex è il mercato dove si fanno piccole operazioni di guadagni online sulle valute merce e indici azionari. In poco parole stiamo parlando riguardo al mercato degli investimenti online. Buono. Per la domanda, credo che lei è maggiorenne, giusto? Sì. Propriamente dalla voce non sembra una voce molto giovanile. Infatti il motivo della nostra chiamata oggi è perché in questi giorni la nostra società vi affianca dei bonus che le danno più potere sul mercato. Pacchetti con diversi servizi, piattaforma Meta3, 4 e anche un'esperta del campo che vi segue passo dopo passo. Credo che lei, signore, ha un pc, un tablet, naviga ogni tanto sull'internet e possa caricare un'informazione o una foto, giusto? No, io sono povero come la merda, non posso prendermi il computer. Ho capito. Non ha un computer allora a casa, nemmeno un pc, non un tablet. Eh no, ti ho detto perché. Ma l'internet, lei la usa l'internet tramite il telefonino allora? No, perché costa l'internet, io sono povero come la merda, hai capito? Grazie, buongiorno. Niente. Gli atto non mi lasciano in pazza. Lei è mio, bisogna trovare un parcheggio, un parcheggio degno di noi. Allora, lì non c'era la water, poteva andare anche bene ma non c'era la water. Noi vogliamo una roba, senti che sprint adesso il corso, vi è andato un'apertura motorale. Ciao bambino. Bravo, saluta sempre. Vuccio, vuccio che vive un camion sparato. Vuccio, vuccio, questo qua ne pincia. Vuccio, vuccio, questo qua ne pincia. Non l'avevi visto? Ok, non l'avevi visto. Brassi, capo. Vedi che ha fatto prego con la mano. Bravi, tutti gentili, bravi, bravi, così vi voglio. Gentili e morbidosi. Perché no, bisogna prendere la telecamera e mi non si può andare avanti così, che io con le retro qua. Non ci siamo, non ci siamo. Allora, considerando che se ci sono macchine poi loro vanno via. Minchia, quando hanno picnicato qua, hanno picnicato il mare. Allora, qua, come vedi, qua c'è l'acqua diretta e mi vedi? Noi possiamo parcheggiarsi qua. Ancavassa. Ecco, che bello. Mi vale, sto con la vista qua. Cosa dici? Guarda là, guarda là, guarda che roba. E' bello, eh. Aspetta che non vedo un cazzo. Fermala, che studio la situa. Poi insomma, cani, diciamo, dove abitiamo qua? Dai, oggi abitiamo... Aca! Bello cazzo. Avanti all'entrata del porca troia. Allora, chi avete qua? Ah, meglio ciavarsele su. Cani, sei pronto? Andiamo a fare un giro? Hop là! Vieni, cane! Hop là anche i cani! E via! Teniamo qua le mie tende singane. Le mie gypsy tende. Eccola. Vamociccia! Non ci siamo cani, ma non lo credo. Ah, un bel posto dove abitare. Sì. Eh, niente ciao, io abito qui. Bello, eh? Bello, bello, bello. Mucho bello. Eh, mi? Flutti, ci piace? Mamma mia. Evitiamo le zecche e basta. Ci sono a posto. Fai i zirini all'altra volta. Guarda, li vedi? È pieno. Ma che roba? Anche lì? Ora. Che storie. Lemi? Ci siamo, ragazza. Ci siamo? Eh, ne ho fatto un bagnetto. Vai, gnuini! Vai, vai! Vai la gnuini. Io come faccio ad attraversare? Voglio attraversare. Ma sono con le scarpe, no? Voglio mettermi le cose. Hai visto, Nuni? Andiamo di qua che sembra più profondo ancora. Wow! Eh, va là là. Emi, Emi! Emi! Lemi, lemi! Zappalo! Brava! Bravo cane! Bravo! Bravo! Cara! Vado male con la sinistra. Adesso cambio mano. Fermalo! Guarda che elemento. Dov'è? Ah! Ripersa! Ciappalo! 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 Ciappa! Vai! Canemona! Madonna! Guarda che lavori! Hai una paura di andare sul fondo. Madonna! Ciappalo! All'acqua! All'acqua! Ciappalo! 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 Vai! Brava Emi! Brava Tati! Brava! Bella gna! Gna! Fermo! Fermo! Ah! Che milagre! Non sono ritenuta da lavaggio. Anzi vai di là! Vai! Guarda il cano e il subago. Guarda! Piazze! No! Il bacchetto! Il bacchetto! Il bacchetto! Aiuto! Aiuto! Aiuto il bacchetto! Il bacchetto! Il bacchetto! Il bacchetto! Emi! Emi! Vai il bacchetto! Ciappalo! 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 Vai il bacchetto! Ciappa! Ciappalo il bacchetto! Vai! Bacchetto! Dove è il bacchetto? Bacchetto! Prendi il bacchetto! Dai! Bacchetto! Bacchetto! Dove è il bacchetto? Guarda! Cane! Il pifone della profondità! Prendi il bacchetto! Dove è il bacchetto? Eh? Bacchetto! Cosa? Bacchetto! Dove è il bacchetto? Dai! Vai, vai, bacchetto, 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 vai, bacchetto. Abbiamo un bacchetto più fermale. Faccio io. Un bacchetto più invitante. L'altro, questo è un po' bagnato. Gira così. E con una mano vado un po' malissimo. E va, vieni, dai. Porta pazienza, cane. Stiamo lavorando per voi. Guarda, cane. Oggi qua, oggi qua. Oggi un bacchetto, oggi un bacchetto. Zabalo! Vai, bacchetto. Brava, brava. Guarda che bacchetto. No, che bacchetto, guarda. Non si è mai visto un bacchetto così. Presta, presto. Certo, si nota anche un po'. Non noti mai. Eh, guarda, guarda. E mi? Zabalo! Vai, vai, bacchetto, vai. Vai! Brava! Brava! Prendi il bacchetto. Dov'è il bacchetto? È di là, sinistra, sinistra. Sinistra! Non trovi il bacchetto. Mannaggia! Va bene, vai. Nutria! Non trovi il bacchetto. Va bene, dai. Permesso, signor cane. Occhio! Vadi! Vieni, noi rimuoviamo la pietra. E guarda che pietra che c'era. Sono una bella pietra. Guarda l'ho. Sono io. Tutti incaricati in spiaggia. 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 Tutti incaricati in spiaggia.